Buongiorno a tutti, sono qui alla ricerca di un campo per costruire uno stadio nuovo per tutti i tifosi del Bari. Questa piazza merita una struttura adeguata, solida, che coincide. Sono qui nella campagna in Benito, sono ore che camminiamo, io e il suo soliano insieme, cercare ma troviamo un posto adeguato, sappiamo ancora come procedere a questo nostro problema. Ora mi lascio, il suo soliano sta faiando la mia farina prosciutto, lascio il prosciutto, lascio il mio, lascio.